Comunque volevo farvi notare come nei video di più di tre settimane le views fossero, cioè comunque piuttosto considere io, views normali del mio canale, 84.000, 82.000, vi presenta il mio ragazzo è ok, è un po' più basso, però per il resto erano più o meno views mo. E invece sono due settimane, precisamente da quando ho caricato questo video qui, che praticamente sono tutte scese sotto i 20.000, la canzone con Livia è arrivata solo a 100k, l'altra era a 250k, cioè questo non era partito la feed in 4 ore, aveva fatto 5.000 views, l'ho messo privato, questo ok, questo l'altro video c'ha 200.000 views, questo c'è una 59.000, questo 31.000, questo in 4 ore con la mia, Io vorrei capire, ma YouTube, ma ti costa tanto a farmi funzionare i video, non è difficile, devi mandare la notifichina, così posso tornare a fare i soldi, sennò come fanno i miei bimbi a cliccare sulle pubblicità, eh? E i soldi come li faccio? Salve, noi siamo del team di supporto di YouTube e vorremmo aiutarla, come si chiama? Eh, sì, salve, mi chiamo Luca e volevo provare qui a sistemare il mio canale YouTube perché, boh, secondo me è un po' bugato, è come, tipo, anche sei mesi fa era successa la stessa cosa, potete aiutarmi? Ah, d'accordo, d'accordo, senta, ma, eh, lei, i suoi titoli di clickbait li sta usando come al solito, sì o no? Ah? Ah? Sì, sì, li sto usando, al solito, insomma, ultimamente un po' di meno perché mi sembrava irrispettoso nei confronti dei miei iscritti. Ma come ti sembra irrispettoso? Ma come ti permetti? YouTube funziona così? Click me! Allora, uno, sei un cretino, due, li vuoi fare i soldi, sì o no? Ah? Vuoi fare i soldi? Ah? Ah? Vabbè, senta, grazie lo stesso, però il vostro supporto è un po' una merda. No, guardi, però, cioè, bisogna anche istruire le persone a non cascare con questi click inutili, no? Perché altrimenti la gente crede a tutte le fake news, la gente crede a qualsiasi cosa, clicca dal titolo, ci clicca e poi non pensa, no? Non bisognerebbe istruire tutte le persone che ci seguono a un... Ciao ragazze, questo è un nuovo video sugli slime! E ciao, oggi facciamo un gameplay su Fortnite! Facciamo una challenge! Ho costruito la fortezza di Harry Potter su Fortnite! Mille, mille di...